81 anni, tanti, pochi meno dell'aspettativa media della vita di una donna in Italia, quindi un periodo lunghissimo che attraversa l'arco di quasi un secolo. Eppure, nonostante siano trascorsi 81 anni, per i civita vecchiesi il 14 maggio è un giorno diverso, perché quel pomeriggio del 14 maggio 1943, l'arrivo di quelle centinaia di bombe sganciate dagli aerei anglo-americani, le conseguenti morti dei militari che si trovavano al porto e dei tantissimi civili, oltre 400, ha segnato una frattura netta nel DNA della città. C'era una civita vecchia prima di quel terribile pomeriggio e dopo ne è nata un'altra, sicuramente peggiore. Le migliori caratteristiche di quella città e della sua comunità, che si erano tramandate per secoli di padre in figlio, vennero in gran parte cancellate da quelle bombe. E nella testa e nel cuore, nelle coscienze dei figli e dei figli dei figli di quanti vissero quei tremendi momenti, questa frattura genetica si sente e la si sente dentro. Se ne soffre sempre più in silenzio, un silenzio figlio di una stanchezza dovuta al fatto di averne viste troppe, di aver dovuto assistere, sempre più impotenti, a cosa è accaduto e accade in città, ai comportamenti di persone che un tempo non sarebbero stati tollerati neanche un minuto e messi al bando e che adesso, in qualche caso, diventano anche motivo di soddisfazione. Quindi il 14 maggio 1943 non è una data lontana nel tempo, un retorico esercizio di ricordo per non dimenticare. No, il 14 maggio di 81 anni fa resta scolpito indelebile nelle coscienze dei veri civitavecchiesi, di quanti rivedono quel giorno che magari non hanno vissuto perché ancora non nati, attraverso le immagini televisive di aree bombardate in diverse parti del mondo e attraverso il dramma degli sfollati. E sentono vicina quella gente che neanche conoscono perché pensano, sapendolo, che la vita di quei disgraziati per le vittime di quelle devastazioni non sarà più la stessa per sempre.